Amici e amiche carissime, bentornati per una nuova puntata del nostro ciclo di catechesi dedicata all'approfondimento dell'ipotesi sul peccato originale, ormai è diverso tempo che ci siamo imbarcati in questo affascinante cammino molto interessante, accompagnati dal testo del nostro ormai diventato amico, Rodolfo Barontini, ricordo il titolo La dimensione sessuale dopo il peccato originale, molti mi stanno mandando email per contattare l'autore per chiedere il testo, quindi sono contento perché questo significa che l'argomento interessa e come tante volte ho avuto modo di ribadire lo ritengo interessante perché altrimenti non ci avrei dedicato un ciclo di catechesi, è tra l'altro molto molto attuale perché sulla materia coinvolta in questo ciclo di catechesi è calata da un po' di tempo a questa parte o un'ombra oppure un muro di silenzio oppure un appiattimento su canoni e standard acquisiti post rivoluzione sessuale che però non hanno niente a che fare con la nostra fede e con la rivelazione. Quindi proseguiamo il nostro percorso perché anche questa sera vedremo a partire già dal primo brano degli ulteriori sviluppi molto interessanti. Siamo le da sezione, abbiamo terminato, ricordo l'ampia sezione patristica dove abbiamo visto le fonti di una certa lettura della dimensione sessuale tra l'uomo e la donna in relazione al peccato originale. La volta scorsa abbiamo cominciato la disamina biblica, dei testi che direttamente o indirettamente fanno riferimento a questa tematica. Non abbiamo completato, completiamo se Dio vuole questa sera con i testi che ci rimangono e che andiamo subito a leggere. Il primo è tratto dalla lettera agli ebrei, siamo praticamente nei versetti 9 dal 15 al 22. Leggo il testo in italiano e eventuali poi notazioni esegetiche che dovessi ritenere opportuno le facciamo poi in corso di via sulla base dei testi originali che però adesso vado un attimo a prendere così siamo pronti ad ogni evenienza. Ebrei 9 Dunque, ebrei 9 15 22 sono i riferimenti. Per questo egli, cioè Cristo, è mediatore di un'alleanza nuova perché essendo intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna che era stata promessa. Ora, dove c'è un testamento è necessario che la morte del testatore sia dichiarata perché un testamento ha valore solo dopo la morte e rimane senza effetto finché il testatore vive. Per questo neanche la prima alleanza fu inaugurata senza sangue. Infatti, dopo che tutti i comandamenti furono promulgati a tutto il popolo da Mosè, secondo la legge questi, preso il sangue dei vitelli e dei capri con acqua, l'ana scarlatta e i sopo, asperse il libro stesso e tutto il popolo dicendo questo è il sangue dell'alleanza che Dio ha stabilito per voi. Alla stessa maniera con il sangue, asperse anche la tenda e tutti gli arredi del colto. Secondo la legge, infatti, tutte le cose vengono purificate con il sangue e senza spargimento di sangue non esiste perdono. Questo è il passaggio fondamentale che adesso andremo ad analizzare e vedremo la sorprendente attinenza con il nostro tema. in greco tanto per abbiamo choris aima tenchiusias aima aematos significa sangue in greco tenchiusia appunto significa un nome che deriva dalla composizione di ek più il verbo cheo quindi proprio è il versamento, lo spargimento l'effusione se vogliamo o ginetai aphesis aphesis significa sì salvezza ma anche propriamente perdono remissione della colpa no? ginetai è ignomai in latino è fit dal verbo fio non accade non si verifica salvezza quindi c'è un nesso causale chiaramente in base a questo testo causale significa rapporto di causa-effetto tra lo spargimento di sangue e il perdono dei peccati domanda ma come mai questo succede? ce lo siamo mai chiesto anche noi? come mai? per rimettere i peccati ci ha voluto lo spargimento di sangue di nostro signore su questo penso che non ci sia da discutere no? la formula della consacrazione del sangue di Cristo versato per voi e per molti in remissione dei peccati quindi la stessa formula della consacrazione che noi usiamo nella messa quindi facendosi eco di questo brano e vedendo le parole utilizzate da Gesù stesso stabilisce questo rapporto di causa-effetto ci sono i peccati devono essere lavati bene se non si versa il sangue quei peccati non saranno lavati l'autore della lettera degli ebrei dice anche nell'antico testamento fu così dice il sangue della nuova ed eterna alleanza ma c'era stata l'antica alleanza no? l'alleanza contratta da Mosè scusate da Dio con gli israeliti attraverso la mediazione di Mosè e in sede di promulgazione dei dieci comandamenti che cosa succede? l'antica alleanza era proprio sancita sul decalogo qual era? la sostanza qual era? questi sono i miei comandamenti che sono la mia manifestazione di amore e di volessere dalla parte vostra vi aiuto vi indico il camion della vita da parte vostra dovete osservarli questo patto è stato sancito col sangue perché sono stati aspersi i libri della legge e il popolo quindi fenomeno già accaduto nell'antico testamento allora l'autore assai acutamente che ci azzecca al sangue con il nostro con il nostro tema ma ci azzecca come? abbiamo visto già la volta scorsa cioè la donna ci sono dei periodi in cui è legalmente impura nell'antico testamento perché? perché perde il sangue il sangue è dipendente dal suo ciclo e il sangue perso in occasione del ciclo è in immediata connessione con il mistero della procreazione della generazione questo oggi noi lo sappiamo senza cioè senza ombra di dubbio la donna quando partorisce perde sangue no? andiamo ad approfondire questo brano continuo a citare il testo veramente la citazione di ebrei è finita adesso cito l'autore che effettua il suo commento a questo brano allora in questo brano della scrittura il punto da cui voglio partire è proprio la frase finale senza spargimento di sangue non esiste perdono perdono di cosa? naturalmente perdono dei peccati precedentemente infatti l'autore sacro parlando del santo e del santo dei santi che si trovavano nel tempio scrive disposte in tal modo le cose nella prima tenda entrano sempre i sacerdoti per celebrare il culto nella seconda invece entra solamente il sommo sacerdotato una volta all'anno e non senza portarvi del sangue che egli offre per se stesso e per quanto commesso dal popolo per l'ignoranza questa è la grande cerimana dello Yom Kippur no? e successivamente egli Cristo entrò una volta per sempre nel santuario non mediante il sangue di Capri e di Vitelli ma in virtù del proprio sangue ottenendo una redenzione eterna quindi il sacrificio sulla croce di Nostro Signore è stato il grande giorno dell'espiazione è solo che non c'era un l'immolazione di un animale per prendere il sangue e poi confessare a tutti quanti i peccati sull'altro animale per mandarlo nel deserto ad Azazel qui c'è stato il figlio di Dio fatto uomo non è che si scherza quello non era il sangue di un animale quello era il sangue suo preziosissimo sangue del Dio fatto uomo allora dunque nell'antica alleanza riprendo la citazione veniva sparso il sangue degli animali per il perdono dei peccati nella nuova ed eterna alleanza Cristo ha sparso il suo sangue versato per molti per il perdono dei peccati Matteo 26 28 attenzione nelle prime pagine della Bibbia Dio dice del sangue vostro ossia della vostra vita io domanderò conto questo è Genesi 9 5 6 ne domanderò conto ogni essere vivente domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo a ognuno di suo fratello chi sparge il sangue dell'uomo dall'uomo il suo sangue sarà sparso perché a immagine di Dio è stato fatto l'uomo anche il primo grande peccato dopo il peccato originale che la scrittura ci presenta il peccato di Caino che uccide Abele cosa gli dice il Signore a Caino dove è tuo fratello la voce del sangue di tuo fratello grida a me ora da queste affermazioni della scrittura mi sembra dice l'autore di poter dedurre che lo spargimento del sangue umano è indissolubilmente connesso al peccato o come conseguenza di atti malvagi o come remissione dei peccati non si vede infatti per quale motivo se l'uomo non avesse mai commesso peccati Dio avrebbe dovuto permettere lo spargimento del suo sangue l'effusione del sangue dunque a mio parere è sempre l'inizio del fatto che è stato commesso peccato a suo parere che ovviamente io condivido quindi il sangue chiama il sangue evidentemente effuso perché il sangue non è stato fatto per essere effuso amici miei carissimi il sangue è la vita del nostro corpo è il nutrimento delle nostre cellule il sangue non è stato fatto per essere messo fuori dal nostro corpo il sangue è stato fatto per rimanerci dentro domanda la madonna lasciamo perdere il nostro signor Gesù Cristo che ha dovuto versarlo il sangue che vedremo per redimerci la madonna ha mai perso sangue? domanda il ciclo non l'aveva nel parto non l'ha perso la verginità non l'ha persa non è morta di morte violenta ha perso sangue la madonna? no a meno che non l'abbia fatto diciamo per unirsi al nostro signore Gesù Cristo non è escluso questo qui qualcuna delle penitenze sanguinarie che facevano i grandi santi le discipline che usavano nel medioevo suono va in giro a farsi una cultura insomma erano abbastanza cruente avrà fatto la madonna in segreto queste cose non lo possiamo sapere da quello che possiamo arguire a meno che non abbia fatto queste cose forse le ha fatte o a meno che non abbia ricevuto dal signore in quanto corredentrice che ne so il dono delle stigmati possibile tutto è possibile ma di per sé di per sé se si eccettuano queste ipotesi la madonna sangue non è versato perché perché nella madonna il peccato non c'è né originale né attuale ora riprendo la citazione sto io evidentemente arricchendo ulteriormente le considerazioni dell'autore se posso permettermi ora nell'ambito della modalità procreativa umana questo avviene in tre occasioni la prima fusione di sangue avviene con il ciclo mensile della donna ossia un'occasione dell'ovulazione della mancata gravidanza abbiamo già visto come nel libro del levitico questo rendeva impura la donna per sette giorni così come l'uomo che eventualmente avesse avuto in questi giorni rapporti con lei la seconda fusione di sangue si ha di norma con il primo rapporto sessuale che provoca la lacerazione dell'imene causando una piccola emorragia e abbiamo già visto che il rapporto sessuale anche fra marito e moglie rendeva impuri fino alla sera questo sta scritto nell'antico testamento non è che era una sai quando dice quando Davide gli chiedono ma ti sei astenuto dalle donne per mangiare il pane della proposizione si l'ho fatto così facciamo una cosa più bella per il signore non è una cosa più bella per il signore se non l'avessi fatto tu non potevi mangiarle quelle cose lì perché eri impuro legalmente impuro la terza modesta effusione modesta insomma effusione di sangue avviene durante il parto e sempre nel levitico abbiamo visto che rendeva impura la donna per 40 giorni se maschio e 80 giorni se femmina e tale impurità attenzione l'impurità del parto per essere cancellata richiedeva un sacrificio espiatorio guardate amici miei cari che a mio avviso queste considerazioni sono di un'importanza capitale pensiamo utilizziamo sempre il cervello perché anche se l'antico testamento è l'antico testamento anche se tutti i sacrifici dell'antico testamento sono poi andati a confluire nell'unico sacrificio gradito a Dio che è quello di Cristo quindi sono scomparsi tutti però attenzione come avete già la volta scorsa la razio rimane il parto un tempo di purificazione di impurità così lungo e per riacquisire la purità legale un sacrificio espiatorio è tanta roba no? cioè un parto è una cosa che noi consideriamo oggi evidentemente assolutamente naturale cosa c'è da espiare per il fatto che una donna poverina ha partorito e ha pure sofferto un sacco per partorire ma che deve espiare? sacrificio espiatorio come ho detto prima la mia opinione è che l'effusione di sangue sia necessariamente connessa al peccato questo però ovviamente lo affermo in senso generalissimo non penso che ogni fuoriuscita di sangue condividita al 100% sia legata ad un peccato della persona che ne soffre o che sia sempre da ricondurre ad un peccato commesso nell'ambito dell'attività umana in cui questo avviene è un principio generale questo metafisico se vogliamo in senso utilizzando questo termine in senso analogico per spiegarmi meglio se cado accidentalmente mi ferisco non è che chi lo sa che peccato ho fatto perché sono caduto e mi sono ferito non è così d'accordo? e se mi rego dal dentista per togliermi un dente chiaramente perderò sangue che chi lo sa che peccato ho fatto io cioè masticando queste sono sciocchezze sono stupidaggini però il principio è da conservare quindi che questi tre tipi di effusione di sangue che avvengono nell'attività procreativa umana siano da ricondurre ad un peccato commesso in questo ambito non è possibile affermarlo con certezza politica evidentemente è però un'opinione che secondo me dice lui rientra lecitamente nel quadro dell'ipotesi che propongo infatti mettendo insieme questa argomentazione con quanto ho scritto commentando il brano di Levitico 15-16-24 che abbiamo visto nella puntata precedente e cioè che tutto ciò che riguarda l'attività sensuale dell'uomo e della donna sia volontaria che involontaria rende la persona impure quindi impedita a partecipare al culto dovuto a Dio mi sento di poter riconfermare l'ipotesi che l'attuale modalità procreativa non rientrasse nel progetto originario di Dio ma sia stato installato dopo il peccato l'argomento uno degli argomenti è sacrificio spiatorio per il parto e perché avrebbe senso se il parto che adesso è una cosa necessaria è anche una cosa bella perché col parto viene una vita però non doveva essere non doveva essere e quindi ci vuole il sacrificio spiatorio e tutte quante queste perdite di sangue collegate non soltanto all'attività sessuale perché per esempio il ciclo mestruale una donna ce l'ha a prescindere dall'attività sessuale sua questo è un altro fatto molto molto significativo comporta spargimento di sangue ora noi sappiamo adesso noi conosciamo la medicina conosciamo tante cose cioè nell'attuale struttura femminile umana è assolutamente normale che avvengano cose di questo genere ma il problema è era così? sarebbe dovuto essere così? le povere donne io insomma non sono una donna non lo so però quando ero giovane lo sanno insomma ho avuto la grazia di poter vivere un castissimo ecco ma lungo fidanzamento quindi conosco queste cose no? delle volte le nostre povere amiche donne cioè quando gli prende male che era cosa lì deve mettersi a letto devono mettersi o devono prendersi i camionimanti perché raccontavano io non lo so ma sentivi racconti o vedevo le cose che a volte le prendono dei dolori lancinanti è una croce questa qui eh fino a quando c'è l'età fertile te la tieni come un din don cioè immagino cioè immagino non lo posso immaginare perfettamente ma solidarizzo con come dire con il disagio con il dolore anche che tutto questo comporta ma questo è sangue forzato questo qui non c'è niente da fare ecco altro brano Apocalisse 14 1 4 e vidi ecco l'agnello in piedi sul monte Sion e insieme a lui 144.000 persone che ricavano scritto sulla fronte il suo nome e il nome del padre suo e udì una voce che veniva dal cielo come un fragore di grandi acque e come un rimbombo di forte tuono la voce che udì era come quella di suonatori di cetra che si accompagnano nel canto con le loro cetri e si cantano come un canto nuovo davanti al trono e davanti ai quattro esseri viventi e agli anziani e nessuno poteva comprendere quel canto se non i 144.000 i redenti della terra sono coloro che non si sono contaminati con donne sono vergini infatti e seguono l'agnello dovunque vada è chiaro che qual è il punto che ci interessa sono vergini e non si sono contaminati con donne ora questo è chiaro che non è che i salvati sono soltanto i vergini e quindi tutti quelli che non sono vergine sono dannati adesso io lo dico ad abbondanzia ma perché è meglio dirlo perché trattandosi di argomenti insomma delicati è meglio non lasciare possibili spazi di equivoci no quindi questo è evidente e dentro il libro dell'apocalisse ci sono una montagna di immagini misteriose su 644.000 anche nel corso dell'interpretazione uff sono state fatte una montagna di ipotesi no sappiamo bene anche da da alcune come dire comunità settarie insomma che hanno cominciato a come dire a a fantasticare su questi 144.000 però rimane questa espressione sono coloro che non si sono contaminate con donne sono vergini e qui c'è un simbolismo importante che peraltro è ripreso per contrasto nota l'autore dal profeta Osea conosciamo la storia del profeta Osea cito anche qui nel profeta Osea che succede la mancanza di fedeltà a Yahweh e ai suoi comandamenti è espressa dal simbolismo dell'adulterio e della prostituzione infatti Dio dice ad Osea va prenditi in moglie una prostituta Osea si dovrà andare a prendere una prostituta e genera figli di prostituzione poiché il paese non fa che prostituirsi allontanandosi dal Signore quindi Osea deve vivere nella sua esperienza personale a livello simbolico quello che Israele fa dalla mattina alla sera col Signore Israele si comporta come una prostituta perché lo tradisce in continuazione commette adulterio rispetto al patto sponsale che Dio desidera intessere col suo popolo e sto profeta poverino se lo deve ritrovare davanti e più avanti dice al popolo accusate vostra madre accusatela perché lei non è più mia moglie e io non sono più suo marito si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni e i segni del suo adulterio dal suo petto Osea 2.4 al contrario la fedeltà a Dio e ai suoi comandi è espressa con il simbolismo di una moglie fedele al marito invece in questo brano del nuovo testamento la mancanza di fedeltà a Dio e ai suoi comandi è simbolizzata dall'essersi contaminati con donne il testo non dice con prostitute ma esplicitamente con donne quindi la verginità simboleggia la fedeltà a Dio e ai suoi comandamenti tra l'altro San Giovanni era certamente vergine sicuro tra i dodici apostoli quindi è significativo dice l'autore che Giovanni che è l'autore dell'Apocalisse abbia scelto queste categorie per simbolizzare la fedeltà o l'infedeltà verso Dio al rapporto sessuale cioè connessa all'idea di contaminazione mentre la purezza assoluta è connessa con la verginità questa concezione e questi abbinamenti saranno ripresi e portati avanti da tanti autori cristiani e da padri della chiesa come abbiamo visto pur mantenendo salda ovviamente sempre questo non dimentichiamolo mai l'affermazione della liceità del matrimonio e della sua santità ovviamente se i conugi sono fedeli ai comandamenti di Dio il sacramento del matrimonio santifica le nozze rende leciti i rapporti sessuali quindi se i conugi si comportano da santi e si santificano nel matrimonio e santificano il matrimonio non solo raggiungono la salvezza ma possono diventare santi pur essendo sposati d'accordo non dimentichiamo io questo lo ricordo sempre non mi pare di averlo già ricordato che tra le grandi figure mistiche per esempio del secolo del secolo anche attuale perché è morta in questi non moltissimo tempo fa c'era un personaggio molto noto che è Natuzza Evolo Natuzza Evolo era sposata c'era cinque figli eppure ha avuto donne e grazie straordinarie da parte del signore quindi attenzione attenzione cioè questi discorsi che stiamo facendo sono discorsi per comprendere quello che è successo alle origini la dinamica cioè la realtà attuale così come è diventata non possiamo cambiarla infatti Gesù l'ha semplicemente santificata adesso la riproduzione si fa così cioè la vita sessuale è indispensabile tra un uomo e una donna perché altrimenti cessa di essere la razza umana d'accordo è un processo che non è reversibile tant'è vero ripeto che Gesù ha istituito un sacramento ad hoc un sacramento ad hoc perché ce lo siamo già chiesto punto interrogativo e io lo ridico un'altra volta perché un sacramento per una cosa che c'è da una montagna di tempo c'era anche in Israele anzi in Israele c'era solo quello con tanto di benedizioni annesse da parte dell'Altissimo felice l'uomo che teme il Signore vivrai la sua sposa come vite feconda nell'intimità della sua casa i suoi figli come virgolto sui rivo intorno alla sua mensa dice un salmo mi pare che il 127 però perché un sacramento ora però capiamo dentro questo orizzonte la corretta identificazione e la corretta comprensione anche della vita sessuale assume un valore enorme enorme per con conto che si abbia una visione come emergerà e come in parte già emerge dalla dottrina cattolica anche a prescindere da queste cose cioè questa è una realtà scottante che può essere utilizzata in certe forme in certi modi a certe condizioni questo rimane vero come disse a suo tempo nella puntata dedicata alla presentazione di ciò che la Chiesa pensa della sessualità umana del matrimonio dell'impunità questo rimane comunque il senso del nostro viaggio è che qualora diamo credito e crediamo a queste cose qui che ribadisco non è necessario credere ci daranno una modiazione più forte ma ecco perché questa materia è così scabbrosa ecco perché tutte queste limitazioni ecco perché tutti questi accorgimenti ecco perché non si possano avere rapporti anche nel matrimonio se non si è aperti alla vita tanto per fare un esempio ecco perché ecco perché ecco perché ecco perché faccio una domanda una coppia si può fare ma tu che vuoi cioè siamo sposati abbiamo avuto due figli basta mi vivo la mia attività sessuale siamo sposati con mia moglie e i figli non li vogliamo fare più quindi posso usare i mezzi contraccettivi uno potrebbe pensare la chiesa ha detto non si può e non ha il potere di dire si può questo ce lo dobbiamo rendere ben conto perché anche adesso ci sono tutta tanto una montagna cioè io questo lo dico lo dico da prete lo dico ai fedeli perché questo lo dobbiamo capire la chiesa anche le più alte autorità della chiesa che devono assolutamente entrare in questo orizzonte non ha nessun potere contro la verità dice san paolo cioè quando una cosa è così stabilita da dio tu non la puoi cambiare si sta parlando in giro non è un mistero perché non si possono tacere queste cose perché sono uscito tutti i giornali cioè quindi ordinare le sacerdoti le donne san giovanni paolo secondo ha già chiuso la questione io non so che cosa qualche eminente membro della gerarchia del nord Europa che cosa si va a inventare perché giovanni paolo secondo ha affermato chiaramente che deve essere ritenuta come definitiva la dottrina che attenzione perché non è che la chiesa non vuole ordinare le donne per carità ma la chiesa non c'è niente contro contro le donne se potesse lo farebbe ma quello che ha detto san giovanni paolo secondo è questo se un vescovo prende una donna e gli fa lo stesso rito di ordinazione che ha fatto a me o a qualunque altro individuo umano di sesso maschile è battezzato e cresimato quella prete non ci diventa per cui se dio non voglia ma non credo che si sperimenterà questo dentro la chiesa cattolica come già esiste nella chiesa anglicana se dio non voglia un giorno si facesse una cosa di questo genere guardate che può dirlo chiunque potrebbero dirlo anche le massime potrebbero dire supponiamo che si impazzissero tutti quanti d'accordo supponiamo il caos totale d'accordo la babilonia assoluta e tutte le autorità della chiesa fossero d'accordo se facciamo questa cosa attenzione questo perché capiamo in tutte le ordinazioni di donne che si dovessero fare in questa ipotesi come dire fantasiosa sono tutte nulle non abbiamo potere se un giorno per dire qualcuno si impazzisce e dice i rapporti prematrimoniali sono leciti ma quelli sempre leciti rimangono se qualcuno si impazzisse e dovesse dire la contraccezione si può usare perché no no non si può usare mai cioè capiamo questa cosa la chiesa cioè le più alte autorità io sono la ruota più bassa del carro insomma perché sono un povero prete ma anch'io nel mio povero nel mio essere povero prete io sono un povero servo attenzione non servo dei miei superiori ai quali evidentemente ho dovuto filiale rispetto obbedienza e tutto quello che è dovuto ma io sono un servo di Dio cioè perché non è che come vuol dire che il superiore ti sta ogni giorno sul fiato sul collo a controllare che tu fai bene il tuo ai tempi bene il tuo ministero sto sotto gli occhi dell'altissimo io non mi posso permettere di andare a dire cose mie spacciandole come divinamente rivelate io sono un ministro sono un servo ho ricevuto un deposito lo devo custodire e lo devo trasmettere nel mio piccolo così come l'ho ricevuto il papa e il collegio episcopale riunito in concilio ha anche l'autorità da Dio che io non ho come povero prete evidentemente di interpretare la rivelazione definire autenticamente una verità di fede ho attenzione che però una volta che una cosa è definita come verità di fede chi viene dopo non ha più il potere di riformulare una verità di fede definita perché attenzione l'atto di definire una verità di fede non è riferibile a chi lo ha fatto ma a ciò che è stato definito per cui per il futuro è irreformabile cioè per fare un esempio non ci potrà mai essere né un concilio né un papa che si alza la mattina e dice bene la Madonna non è immacolata non è immacolata Pio IX si è sbagliato non è immacolata questo non può succedere d'accordo non può succedere la chiesa è fatta così quindi ci sono delle realtà di cui noi dobbiamo semplicemente prendere atto non abbiamo nessun potere e se uno si azzardasse a cambiarle non farebbe altro che un attentato io per far capire queste cose è come se una persona che non ha l'ordine sacro andasse a celebrare la messa chiaro che queste cose non si vedono cioè se va a celebrare la messa che non so un laico si mette la talare d'accordo ecco perché ogni tanto nei santuari chiedono il celebre se qualcuno si mette la talare sale sull'altare e dice la messa sembrerebbe che era detta la messa non si vede niente ma quello non ha fatto niente non ha consagrato l'ostia non ha consagrato il vino non si è compiuto nessun sacrificio e non si è fatta nessuna comunione e si è rimesso con le ostie nel tabernacolo si è messo un po' di pezzi di pane e azim basta perché perché per celebrare la messa di aver ricevuto l'ordine sacro e nel grado del presbiterato se no la messa non la puoi celebrare punto questo l'ha deciso domine Dio e non si può cambiare bene con questo termina la parte la parte biblica teniamo presente un'altra cosa importante che poi più avanti sarà ripresa nell'antico testamento c'è anche una un fatto fondamentale che abbiamo già visto la circoncisione allora ci abbiamo l'alleanza nell'antico testamento ci sono diverse alleanze ecco perché Gesù parla della nuova ed eterna alleanza perché ce ne sono state diverse la prima grande alleanza non fu conclusa con Noè e nemmeno con Abramo per la verità ma fu conclusa con Noè dopo il diluvio la colomba che porta il ramoscello e l'arco baleno dice questo è il segno della mia alleanza non farò più cadere il diluvio l'alleanza fatta con Noè poi ci fu l'alleanza fatta con Abramo e già in questa alleanza questa è un'alleanza sanguinosa perché l'alleanza fatta con Abramo è sancita e fondata sulla circoncisione circoncisione a cui lo stesso nostro Signore Gesù Cristo si è sottoposto come ci dicono i Vangeli e la circoncisione che cos'è? spargimento di sangue da dove? punto interrogativo domanda perché noi le domande possiamo farcele anzi dobbiamo farcele per cercare di arrivare ma insomma per appartenere al popolo attenzione se un adulto chiedeva di diventare ebreo quelli che nel nuovo testamento si chiamano i proseliti doveva essere circonciso la prima grande questione che affrontò la Chiesa di Gerusalemme negli Atti degli Apostoli è proprio questa cioè se un pagano che chiedeva il battesimo dovesse essere circonciso cioè se per diventare cristiano dovessi fare il passaggio prima ebreo e poi battezzato e guardate che c'era una divisione perché c'è voluto il primo tra virgolette concilio che non rientra tra i 21 concili ecumenici ma di fatto lo è stato in cui si è affrontata questa questione chi era contrarissimo a questa cosa San Paolo San Paolo diceva niente cioè Gesù Cristo la legge antica l'ha abolita quindi tutte le osservanze le cerimonie appartengono all'economia antica noi oggi ne conserviamo la razio ecco perché in Antico Testamento non possiamo buttarlo perché dobbiamo chiederci come mai nell'Antico Testamento e che cos'è che ha sostituito attenzione la circoncisione dice San Tommaso d'Aquino nella Somma Teologia per noi cattolici qual è il sacramento che ci rende parte del nuovo popolo di Dio battesimo e cosa fa il battesimo ti toglie il peccato originale nell'Antico Testamento il battesimo non c'era ma ciò che oggi è il battesimo prima era la circoncisione cioè il taglio del prepuzio che avrebbe dovuto avere qualche effetto come dire simbolico anche anche questa cosa sul peccato originale o no è lecito pensarlo o no quindi siccome adesso il sangue l'ha tutto versato al nostro Signore Gesù Cristo ha versato sangue tutto il suo sangue non c'è più niente noi non dobbiamo fare niente di cruento almeno a livello a meno che uno poi non scelga la via dei grandi santi e delle loro austerità anche cruente oppure che uno muoia martire questo è un altro discorso però no ma ordinariamente nella vita come dire di accesso normale nella frequentazione comune della nostra fede che si sparge qualcosa avete visto spargimenti di sangue si ammazzano gli animali si sacrificano gli agnellini i tori le cose oppure uno per entrare deve andare a fare questa 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 cosa cruenta la siconcisione no non c'è niente di tutto questo perché il sangue l'ha versato tutto il nostro signore però il sangue della nuova ed eterna alleanza l'unico che è veramente prezioso è che in cui di cui meglio tutti quanti i sacrifici cruenti dell'antico testamento erano una figura e un'ombra adesso non ci servono più perché il sacrificio cruento che ha salvato l'umanità è stato uno e attenzione però non ci sono più ma quel sacrificio cruento da quando è stato compiuto viene ininterrottamente reso presente ininterrottamente nel sacrificio caristico che è un vero sacrificio in cui il sangue viene versato non nel senso che Gesù soffra ancora la chiesa lo chiama appunto il sacrificio incruento ma nella messa la separazione del sangue dal corpo di Cristo che si è storicamente verificata sulla croce viene riprodotta sull'altare perché vengono consacrate le due specie distinte l'una dall'altra e come spiega Sant'Ommaso la presenza reale di Gesù è tutta intera in ciascuna delle due specie e in ciascun frammento di essa cioè se uno non potesse deglutire l'ostia e fa la comunione con un cucchiaino di sangue di Cristo ha ricevuto Cristo tutto intero e se uno prende sempre per problemi di deglutizione come capita agli anziani un frammentino piccolo piccolo di ostia riceve Cristo tutto intero e allora perché se Cristo è tutto intero in ciascuna delle due specie devi consacrare distintamente pane e vino e corpo e sangue perché sull'altare è un altare attenzione che noi non abbiamo le menze noi abbiamo l'altare dove si compie un sacrificio questo sia ben chiaro perché la messa è essenzialmente un sacrificio che quale quello della croce quindi è vero che sono scomparsi tutti i sacrifici dell'antica alleanza ma il sacrificio con la S maiuscola è ininterrottamente in atto sul pianeta terra quante mesi saranno celebrate al giorno è vero che adesso purtroppo se ne celebrano molte meno per tante ragioni ma comunque guai al giorno che dovesse venire meno una cosa del genere guai il mondo non potrebbe resistere senza senza la messa quindi tutte queste cose ecco io vorrei fermarmi adesso perché poi inizio un'altra sezione che è quella dedicata ai documenti del Magistero quindi chiudiamo così devono essere oggetto di riflessione c'era la circoncisione come mai il battesimo ha sostituito la circoncisione e la relazione del battesimo in ordine del peccato originale è universalmente riconosciuta con la pratica del battesimo dei bambini quindi i sacrifici cruenti non ci sono più ma il sangue Gesù l'ha versato fino all'ultima goccia l'abbiamo visto questa sera e questo spargimento di sangue prosegue ripeto sia pure in forma incruenta ininterrottamente tutti i giorni su tutti gli altari dove si celebra il santo sacrificio eucaristico anche qui perché punto interrogativo cioè questi perché noi è lecito chiederceli perché questi perché e chiudo non sono come quando noi chiediamo al signore il perché che ci spiega le cose che accadono nella vita e perché c'è avvenuta la malattia o cose di questo genere questi perché a Dio non ci si chiedono mai d'accordo mai perché i disegni di Dio vanno adorati però l'intelligenza delle scritture l'intelligenza della rivelazione l'intelligenza di queste cose non sono curiosità o andare a pretendere dal signore che mi spieghi le cose prima del tempo e che mi faccia capire ciò che lui ha deciso che non è bene che però lo capisco ma mi devo semplicemente affidare queste cose servono di edificazione alla nostra fede di consolidamento della nostra fede e vanno ad alimentare la sacrosanta sapienza divina perché se uno interiorizza profondamente non soltanto alcune verità ma anche le profondissime motivazioni che le sorreggono e la sua il suo percorso di santificazione la sua lotta contro il peccato la sua lotta contro il mare saranno molto più profonde saranno molto più convinte saranno molto più forti saranno molto più motivate quindi è importante non è che non è importante è importantissimo ecco perché stiamo facendo questo percorso la prossima volta cominceremo l'ultima sezione del testo del nostro autore che va a fare una rassegna dei cenni anche qui dei luoghi del magistrato della chiesa dove si possono trovare riferimenti indizi o ponti verso la nostra problematica è l'ultima sezione del suo testo e poi trae le conclusioni ovviamente per noi non sarà l'ultima perché poi come promesso alla luce di tutto questo andremo a leggere anche qui liberi di credere o non credere ciò che il signore ha rivelato su questo punto e in maniera abbastanza esplicita alla mistica italiana Maria Valtorta andarci dopo tutto questo escursus vedremo non sarà non sarà affatto la stessa cosa perché molte cose che il signore dirà le abbiamo già acquisite e saranno altamente comprensibili bene con questo saluto tutti appuntamento alla prossima settimana con la mia benedizione Dio vi benedica e tutti la Madonna sempre vi protegga grazie a tutti